Roberto Calderoli, inizia al Senato il terzo giro per l'attuazione della riforma costituzionale. La Lega Nord che cosa chiede al Governo Letta? Guardi, di fare bene e di fare in fretta, perché purtroppo anche noi abbiamo accettato la strada dell'istituzione del Comitato per accelerare le riforme. Di fatto, con l'andamento dei tempi alla Camera, il cammino delle riforme con questo Comitato si è addirittura allungato, perché per dicembre avremmo già potuto realizzare la riduzione del numero dei parlamentari e il Senato federale, che era il punto di partenza di qualunque riforma. Ora partirà questo Comitato, però non partirà prima di gennaio, quindi che si parta, si faccia un cammino a gradini, perché se si cerca di fare tutto in un colpo non si riuscirà a fare nulla. Qual è il suo giudizio della legge di stabilità uscita dal Consiglio dei Ministri? Per quello che si è potuto vedere è una legge di staticità, non di stabilità. Non c'è nulla di nuovo se non le vecchie finanziarie, dove prendono una tassa, gli cambiano il nome, la fanno diventare una cosa completamente diversa quando è la tassa vecchia e solitamente ci si attacca ancora qualcosa. Quindi mi sembra che alla fine il cittadino venga ancora più bastonato che in passato. Il governo secondo lei è stabile o continua a zoppicare? Io credo che dopo quell'episodio del voto di fiducia con quella frattura che si era determinata nel PDL, una certa stabilità l'abbia conquistata. Tutto dipenderà se il PD riuscirà a reggere l'onda di Renzi. Dopo aver superato il problema della decadenza di Berlusconi, oggi c'è un problema a Renzi che è molto serio. La decadenza, la questione della decadenza deve arrivare ancora in aula e su questo c'è battaglia tra PD e PDL per il voto segreto. Ma guardi che sono tutte delle finte battaglie perché l'unica cosa su cui battagliano è nel cercare di recuperare tempo, spostare più in là ogni genere di decisione in modo che arrivi il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano e poi della Cassazione con la condanna di interdizione ai pubblici uffici e quindi nessun voto poi ci sarà se non quello che è scontato. Quindi mi sembra che tutti sono d'accordo sulle larghe intese anche nel differimento del voto su Berlusconi.